Ma hai copiato? Ma hai copiato? Vai, io posso, vai Vai, vai, vai Ma abbiamo 10 Venti Venti Adesso 10 Poi regalo è triste, vai Chi non è guarda? No, ma la proprietà privata non esiste Non tu ha facciato le tue cose Bella Io non le guardo e fuggi Adesso si Non va di qua Ah, ci va a far più Ma aspetta Ma che la saldi sempre Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Viziano Se il piatto è 20, la puntata minima è 20 Non più 10 Non più 10, puntata minima 20 se ti appena Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Quasi già che sono le grandi somme Ho vinto Ma non è vero 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 Ecco la nuova foto di Facebook Signora autoscarci Guarda Guarda Giappe 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 Però ragazzi non puntate Che fai Che fai O almeno puntate Una Che cazzo di ciò che fate Che minchia Ho giusto Far fatto il culo Po-ling Po-ling Ho giusto Dio Non punta nessuno Che cazzo di ciò che era Non è vero Dio Dai Vediamo Vediamo Dio Ero un bel cazzo o se lo facevo non se ne accorgeva così se lo facevo non se ne accorgeva così e si trova poi quando si scena ai maffoli non è quanto non ho se lo reggira ce ne accorgeva il b ش Zimmer lo slapped è quello quindi la faccia tutta Ferragio adesso siamo in tutta